Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Varole, io sono Biazzacu e io sono Tazzo. Allora, abbiamo fatto Meret, buongiorno, Anghissa, Politano, tocca al Capitano, e t'ha già fatto pura rima, Giovanni Di Lorenzo. Facciamo sto pagellone dell'inizio di stagione di Giovanni Di Lorenzo. Allora, per chi non avesse seguito ancora questa serie, stiamo facendo praticamente un resoconto su quest'inizio di stagione dei vari calciatori del Napoli, individualmente parlando, per capire un pochino come hanno iniziato. Adesso rispolveriamo tutte le partite di quest'inizio di stagione, perché comunque il calcio va avanti, la memoria un pochino si sbiadisce con il tempo, quindi è giusto rispolverarla. Di Lorenzo, come è iniziato questa stagione? Con Napoli-Modena. Mi ricordo una partita di Lorenzo veramente ottima, cioè mi ricordo tipo che fece un sacco di passaggi e di lanci lunghi. Questa è la sua prima partita da braccetto di destra nell'idea di Antonio Conte, poi ha continuato così per le prime partite, fino alla partita con la Juventus. E io mi ricordo un Di Lorenzo molto propositivo, lo è stato praticamente per quasi tutte le prestazioni da braccetto di destra. Sì, fu una partita brillantissima. Ricordo che in quel video che feci, subito dopo la partita, feci vedere, o forse invitai a vedere, scusatemi, il litmap che mostrava come avesse giocato da trequartista. Peraltro mi dispiacque anche un po' perché notai che in quella partita lui fece tantissimi cross, alcuni anche se me belli, però destinati a nessuno. Perché l'area era riempita solo da Raspadori in quella partita che per ovvie ragioni non poteva arrivare su determinati palloni. Però sì, non ti vedo, quella forse è stata una delle partite più belle di Di Lorenzo in generale nella sua carriera a Napoli, proprio tecnicamente parlando. Poi Verona-Napoli, dove per me è ovviamente una partita dove la tua squadra subisce tre gol, non gli puoi fare tanti complimenti a nessuno. Però mi ricordo tipo la palla bella che diede a Kvara davanti alla porta prima che poi uscisse per infortunio a Quiccia. Quindi mi ricordo comunque un Di Lorenzo che ci provò, ma purtroppo non riuscì nell'impresa di fare bene bene. Con il Bologna ci fu quella bellissima prestazione coronata con quel gol sull'assist di Kvara, che ancora oggi forse è l'assist più bello, è anche il gol più bello di questa stagione secondo me, proprio per come è stato costruito. Vabbè, gusto personale mio. Dove ci sta quella triangolazione con Kvara che fa lo scavetto e Di Lorenzo a volo, bello, veramente un grande gol. E lì poi abbiamo iniziato a vedere sempre più spesso gli inserimenti di Lorenzo da dietro, che partiva praticamente senza nessuno che lo seguisse, perché il baraccetto che si stacca è sempre un'arma micidiale per qualsiasi avversario, è difficilissimo difendere su quei movimenti. E quindi grande partita con il Bologna. Mi ricordo che anche con il Parma c'è una bellissima partita, mi piacqua. Con il Cagliari riuscì pure a trovare il gol per l'ennesima volta, un'altra super partita da braccetta di destra. E poi c'è stato il cambio di ruolo. Siamo tornati a giocare come terzino destro, perché poi siamo ritornati con la difesa a quattro. E lì devo dire che dalla Juventus in poi, anche con il Monza e anche con il Como, ho visto un Di Lorenzo molto più applicato nella fase difensiva che in quella offensiva. Per Assurdo era stato molto più efficace, offensivamente parlando, anche con i movimenti, perché tende a giocare più dietro, più prudente di Lorenzo da quando è passato di nuovo a giocare come terzino. E quindi per me un pochino è calato sotto quel punto di vista. Però, come dico sempre, per me un difensore, perché in questo caso si parla di difensore, siccome Di Lorenzo si è concentrato soprattutto nella fase difensiva. Cioè se un difensore non spicca, nel senso che né per le cose positive né per le cose negative, significa che sta giocando bene. Perché significa che non sta facendo stronzate, che è la cosa numero uno che deve fare un difensore. Perché l'errore che commette il difensore è gravissimo e che poi ti fa subire gol. Quindi, comunque sì, abbiamo visto secondo me un Di Lorenzo, anche se meno propositivo, un Di Lorenzo ottimo, che non si è fatto... Perché poi Di Lorenzo ci ha sempre regalato anche delle prestazioni dove magari fa quell'errorino che poi viene criticato, giustamente. Le critiche sono arrivate poche a Di Lorenzo in questa stagione e questa è una cosa da evidenziare, secondo me. Soprattutto perché era un potenziale bersaglio della tifoseria, considerando quello che è accaduto in estate. Invece, sin da subito, lui ha recuperato siccome anche l'autorevolezza, non soltanto l'autorità da capitano, ma anche l'autorevolezza in campo. Rimane uno dei giocatori più impiegati durante la manovra, nonché uno di quelli a cui riescono meglio le verticalizzazioni, soprattutto dal suo lato. Infatti, alle volte mi dispiace realizzare che non ce l'abbiamo sulla sinistra, perché probabilmente acquara un giocatore così sarebbe veramente tanto utile. Perché Di Lorenzo davvero in alcuni momenti stupisce per quanto è bravo a verticalizzare sull'uomo vicino. Ne fa anche tante di stronzate quando prova a verticalizzare, ma quello è ovvio perché la verticalizzazione è un rischio, è sempre un rischio. Quindi, quando la fai bene, l'hai fatta bene, probabilmente hai creato un'azione da gol potenziale, sicuramente. Quando l'hai fatta male, magari hai rischiato troppo, ma come diciamo sempre su questo canale, il rischio non solo deve essere accettato, ma deve essere abbracciato. Nel senso che se tu non rischi in una partita, finisci 0-0. Quindi i giocatori che sanno rischiare li devi premiare. Di Lorenzo è uno di questi. Ti condivido anche sull'osservazione che hai fatto che da quando siamo passati a 4, specificamente la partita con la Juventus, l'ho visto davvero molto più abbottonato nella sua postazione difensiva. Infatti, io nelle prime gare gli ho dato l'8 e mezzo con il Modena, perché secondo me lì è stata una partita eccellente, l'ho già detto, ma anche l'8 con il Cagliari, dove è stata una partita totale da parte sua. E poi però dalla Juventus abbiamo avuto 6, Monza 6 e mezzo, Como 6 e mezzo. Quindi non si è più discostato da quella più che buona sufficienza, ci mancherebbe altro, rispetto alle altre partite dove, per l'appunto, con la possibilità che aveva di sbariare per il campo liberamente facendo da braccetto, non ha più avuto quella verve. C'è anche da dire che, per esempio, il primo gol che prendiamo con il Verona arriva anche perché perdiamo una palla molto velenosa sul versante destro, dove Di Lorenzo è andato praticamente nei pressi della bandierina avversaria. E quindi il suo lato è completamente scoperto e lì deve coprire Juan Jesus, che sappiamo perfettamente cosa fa su quel pallone spiovente. Quindi, tra virgolette, potrebbe anche essere che questo sia un merito di Conte che ha fatto in modo che non ci siano più spazi chiusi, anche nelle situazioni di gioco più concitate. Nel lato difensivo faccio un po' di fatica a dare troppi meriti personali. Ci tengo a dire troppi perché, con questo non voglio assolutamente dire che i meriti non siano anche dei giocatori individualmente, perché lo sono indubbiamente. Però quando tu crei un sistema difensivo molto accorto dove, peraltro, i giocatori si abbassano anche di baricentro, quindi possono stare più vicini all'area, è autoevidente che sia più facile difendere. Se poi è un blocco unito che ragiona molto bene, come è accaduto anche per l'appunto a questo Napoli, tutto diventa più semplice. Infatti basti vedere un po' come sono cresciute a dismisura le prestazioni di Rachmani rispetto all'anno scorso. E quindi, sebbene io riconosco che Di Lorenzo ha fatto finora una stagione a livello difensivo quasi perfetta, se ci escludiamo la partita con il Verona parliamo di fatto di una stagione perfetta a livello difensivo, i miei voti non lo raffigurano perché, se no gli dovrei dare 8 in ogni partita, che non sarebbe sbagliato per carità perché per esempio è successo che l'abbiamo fatto con Lobotka per un anno intero, però io personalmente non me la sento. E tutto sommato quindi mi ritrovo con una media sostanziale di 7, anzi 7 meno, però io ci metto tranquillamente il 7 perché abbiamo 6.9, quindi siamo là, che per me è meritato. Perché sebbene non mi abbia fatto impazzire per adesso questo inizio di stagione, l'inizio di stagione è sicuramente solidissimo e quindi sono contento perché secondo me non era facilmente pronosticabile dopo i problemi che ci sono stati a inizio stagione o meglio durante il precampionato, cioè quelle sono cose che ti uccidono e invece Di Lorenzo è salito fuori benissimo. Secondo me il 7 è il voto più giusto, cioè pure io glielo do. Alla fine non ha fatto niente di eccezionale ma sopra la sufficienza sicuramente. E alla fine stiamo vedendo Di Lorenzo che ha sempre descritto Spalletti, che ha sempre descritto tutti gli allenatori che l'hanno allenato. È lo stesso Conte, cioè un giocatore che dove lo metti lo metti fa bene, che è capitano, leader, si vede tutti credono in lui, si appoggiano a lui e comunque sia hai sempre la certezza in ogni partita che Di Lorenzo quella sua prestazione te la darà sempre, sia se lo metti come braccetto sia se lo metti come terzino destro. Quindi speriamo che continuerà così, perché è fondamentale. Ragazzi, io direi che questo video può terminare qua. Fateci sapere nei commenti che voto date all'inizio di stagione di Di Lorenzo. Condividete il video così ci aiutate a crescere come canale. Se non avete visto le altre pagelle andatele a recuperare degli altri calciatori che abbiamo fatto. E forza napoli sempre. Adieu.